Ed eccoci qui con Irene Cetroni, questa volta stai con un gruppo qui, con un altro gruppo, con un altro gruppo, esatto, non è quello con cui mi disegno, esatto, con i Cetroni, esatto, con i Cetroni Brothers, i tre Cetroni, esatto, stasera qui a Rocche per un bambino, Sì, questa bellissima causa, sono con Mauro Ingafu, Massimo Rossi, Simona Cosacchi, che ogni tanto vedo passare, e Cristina Picca, facciamo un omaggio a De Gregori, con mia cognata, con mia cognata, beh qualcuno della famiglia ci deve stare, esatto, allora raccontami un pochino delle ultime cose che hai fatto, delle ultime cose che ho fatto, allora sono stata in tour con Serena Utieri, con Maferledi, abbiamo terminato da poco a Salerno, dovrebbe riprendere la tournée comunque l'anno prossimo, poi sono stata con Buzz, abbiamo finito anche con lui da poco, sempre l'anno prossimo, e poi c'è un altro progetto che è partita a dicembre, che non dico niente, per scaramanzia, ma ci siamo quasi. Con un grande comico pure sei stata molto? Certo, con Enrico ovviamente non l'ho nominato perché non è stata recentissima l'ultima cosa che abbiamo fatto, però con Enrico Brignano ormai sono sei anni che collaboriamo, quindi quando gli serve io ci sono. Quindi fa uno squill e tu parti? Io parto, assolutamente, molto volentieri. Mi sembra che nell'ultima volta che ci siamo incontrati mi hai detto che state preparando un musical? Loro stanno preparando un musical, sì, io ogni tanto vado, mi intrufolo, però loro stanno preparando i Sette Re di Roma, che sarà... I Sette Re di Roma? Esatto, quello che fece Proietti tanti anni fa, sarà uno spettacolo meraviglioso. Ma tu non partecipi lì? Io da dietro le quinte, ogni tanto mi intrufolo. Ti inserisci? Esatto, esatto, perché avrò un'altra cosa di cui poi... Questa ragazza ha molte qualità, sia a canore, da ballerina e da tante altre cose. Quindi... Vabbè, ci si prova. Un augurio, come sempre, per un avvenire artistico eccezionale, ma le basi già si vedono, quindi non c'è bisogno di niente. Grazie mille, grazie. Grazie a te, e allora ci vediamo dopo sul palco. Ci vediamo fra poco, buona serata. Ciao pure a te, ciao. Ciao.